Il design dei diffusori si è evoluto molto nel corso degli anni e oggi per lo più troviamo cabinet piuttosto compatti rispetto alla seconda metà del secolo scorso e racchiudono ovviamente driver di minori dimensioni. In un'epoca in cui la tecnologia è spesso caratterizzata da design minimalisti, futuristici, un diffusore dal look retro si distingue di fatto per la sua originalità. Ma solo le sue linee ci riportano agli anni 70 perché al suo interno troviamo tecnologia audio moderna che garantisce prestazioni di grande livello. Molti marchi stanno puntando a riscoprire il fascino di queste forme vintage e tra l'altro proprio Ellipson al Monaco High End di quest'anno ha aggiunto un modello da scaffale per completare la linea Heritage XLS. Vi avevamo già raccontato le maestose XLS 15 e oggi diamo uno sguardo al modello di mezzo XLS 11, un diffusore dal look retro che offre un'esperienza sonora di grande qualità e può essere considerato un oggetto di design attraente ed affascinante. Io sono Alessandro e bentornati in iFaclub, il canale dell'alta fedeltà. Proprio parlando di alta fedeltà pensate che l'Ellipson è il marchio hi-fi francese più antico. Affonda le sue radici nella metà del secolo scorso diventando famoso per i diffusori sferici che divennero ben presto la sua firma. Questa soluzione è stata scelta dal marchio per i suoi numerosi vantaggi acustici tra cui riduzione della distorsione e delle vibrazioni. Da allora il produttore francese non ha smesso di sviluppare nuove soluzioni acustiche per creare diffusori sempre più efficienti ed eleganti. Oggi è ancora conosciuto per una moderna gamma di diffusori sferici tanto eleganti quanto potenti denominati iconicamente Planet che vogliono far rivivere il design d'avanguardia e la perfezione sonora che avevano reso famoso il marchio in tutto il mondo. Ma nella loro storia hanno realizzato anche monitor professionali. Léon, il fondatore, su commissione della radiotelevisione francese, progetta dei diffusori per migliorare la risposta in frequenza e la qualità del segnale in generale nei loro studi. E dal professionale i diffusori del marchio francese prendono piede nelle case degli appassionati. Questo perché univano alle qualità acustiche uno stile originale ed elegante. E negli anni 70 l'azienda avvia una nuova linea di prodotti utilizzando per la prima volta il legno e industrializza la produzione a seguito della crescente domanda di sistemi Hi-Fi. Questi sono gli anni in cui ogni famiglia in casa ha un impianto stereo. È di fatto un must senza non puoi ascoltare la musica. La linea XLS ricorda il mondo Hi-Fi di quegli anni, rivisto però con un gusto più contemporaneo e arricchito di molti dettagli high-end. Ma veniamo al protagonista di oggi, Heritage XLS 11, ispirato dal design dei diffusori degli anni 70, a partire dalla configurazione a tre vie, bus reflex frontale e un cabinet in legno. Mantiene le linee del modello più grande, XLS 15, di cui avevamo già parlato, vi lascio il link qui sopra per darci un occhio. Ma non lasciatevi ingannare dal look retro di questo modello più compatto. Gli XLS 11 sono stipati di tecnologia moderna. Partendo dal componente più vistoso, il woofer per bassi da 8 pollici ben 20 centimetri deriva dalla versione da 12 pollici del modello maggiore, con l'idea di mantenere la stessa resa del modello superiore, in un cabinet però con dimensioni più compatte. Il driver di grande diametro permette al cono di restituire bassi profondi e capaci di grande dinamica, scendendo fin sotto ai 45 Hz. Il materiale del cono è in fibra di cellulosa bianca, che concorre a rendere unico questo diffusore. Anche dal punto di vista estetico, il design tipicamente old school del woofer prevede un cono che coniuga rigidità e leggerezza, così da muovere l'aria in modo efficace e rapido. È associato ad un sistema magnetico più compatto rispetto all'XLS 15, ma molto potente e in grado di restituire un buon punch. La porta bus reflex è posizionata sul pannello frontale. È accordata a 37 Hz. È appositamente svasata per ridurre l'insorgere di eventuali turbolenze, che andrebbero a distorcere l'immagine sonora, specialmente quando esageriamo col volume. Gli altri driver sono gli stessi che troviamo nel modello big size, a partire dal mid-range da 55 mm, estremamente performante, che riesce a coprire un'estensione di ben tre ottave. Il mid-range, in un diffusore, è forse l'elemento più importante. Si occupa della riproduzione dei medi, fondamentalmente il range della voce, dai nostri cantanti preferiti ai dialoghi dei film. Questo driver è in grado di restituire una gamma sonora ricca e naturale, e il giusto dettaglio per offrire un'ottima comprensione della melodia del parlato. Il tweeter a cupola morbida in seta da 22 mm è lo stesso utilizzato nei diffusori della gamma Prestige F7. È stato selezionato dagli ingegneri acustici del marchio per la sua eccellente risposta ai transienti e anche per la capacità di grande controllo alle alte frequenze, garantendo un'ottima risposta fino a 25.000 Hz. Come i diffusori degli anni 70 da cui si ispira, questa heritage permette la regolazione dei livelli di medi e alti, in base alle proprie preferenze, ma anche ad esempio alla sorgente utilizzata o alla sala d'ascolto. Per farlo, sul pannello frontale sono posizionati due selettori che agiscono direttamente sul crossover. Ogni selettore consente di regolare la risposta del relativo driver con una sensibilità di 1 dB, aumentando o abbassando il livello per ogni gamma di frequenze. Queste regolazioni sono molto utili per aggiustare la resa sonora del diffusore, senza di fatto modificarne la firma sonora. Durante le nostre prove d'ascolto mi sono divertito ad ascoltare le 4 stagioni di Vivaldi con Giuliano Carmignola al violino e Andrea Marcon alla guida della Venice Baroque Orchestra. E per mettere in evidenza maggiormente il violino ho aumentato leggermente questi livelli. Magari per ascolti più intimi, magari ad orari notturni, abbassando i medio-alti vengono favorite le basse frequenze, per un ascolto più piacevole anche a basso volume. Insomma, questi controlli vengono incontro a tutte le esigenze d'ascolto. I morsetti posteriori accettano una sola coppia di cavi potenza ed il crossover stabilisce come punti di incrocio tra i driver 850 e 5000 Hz. Sono diffusori con una buona sensibilità, stiamo parlando di 90 dB, e hanno un'impedenza pari a 6 Ohm, con un minimo di 3,4 a 2600 Hz. E l'Ipson raccomanda un'amplificazione compresa tra i 50 e i 150 Watt, ma per scoprire tutta la gamma dinamica di questi diffusori e il loro vero carattere, meglio optare per un'amplificazione con una notevole riserva di energia. Tra inglesi e francesi lo sappiamo, non corre buon sangue, ma in questo caso abbiamo trovato un'intesa davvero notevole con il Cambridge CX-A81. Vi abbiamo svelato tutti i segreti di questo integrato in un video dedicato, vi lascio il link qui sopra per recuperarlo. Ad ogni modo stiamo parlando di un amplificatore in classe AB, dove il suo cuore pulsante è appunto un toroidale, che offre un carattere elegante, disinvolto e autorevole. Riesci ad estrarre ogni sfumatura musicale da qualsiasi genere e ti cattura letteralmente all'ascolto. Con questi diffusori sembra che il palcoscenico sia veramente lì davanti a te, nitido e pulito. Il suono è estremamente dettagliato e con un'ottima sensazione di profondità del palcoscenico. Tra gli integrati più blasonati con H95 di Hegel, l'elettronica d'ingresso del marchio norvegese, riescono ad offrire un controllo assoluto sulla resa, soprattutto sulle basse frequenze, che risultano sempre pulite e dinamiche. Ma se vogliamo una soluzione semplice ed efficace per ascolti anche a volume sostenuto, sicuramente la copiata pre-amp e power hamster di Tangent sono in grado di restituire un ottimo suono naturale e coinvolgente. Tornando ai diffusori XLS11, il loro design è veramente elegante. Come dicevamo, strizza l'occhio alle forme degli storici monitor vintage, riviste però con un occhio decisamente più moderno. Le dimensioni di questo modello sono a metà strada tra un compatto diffusore da pavimento e un grande diffusore da scaffale. Stiamo parlando di 32 x 56 cm di altezza con una profondità di 27 cm. E non è proprio leggerissimo, il peso del singolo diffusore arriva a ben 17 kg, che ci restituisce un po' l'idea della solidità del cabinet. Pensate che il modello superiore arriva a ben 28 kg al singolo speaker. Il cabinet è realizzato in MDF a media densità e beneficia di rinforzi interni per limitare vibrazioni e risonanze indesiderate. I pannelli laterali presentano una finitura che richiama legno di noce, mentre il pannello frontale è verniciato in nero satinato. A differenza dell'XLS15 questo modello non è dotato di una base inclinata, ma è disponibile lo stand dedicato in metallo con finitura nera satinata. Elegante e massiccio e di fatto è rappresentato da due profili AC per ciascun diffusore, collegati saldamente al diffusore stesso tramite viti. Di fatto si tratta di un diffusore da stand e questo anche per calibrare opportunamente la resa acustica. Questa configurazione infatti permette di alzare il diffusore di circa 22 cm, così da orientare perfettamente i driver con la posizione d'ascolto e ottimizzare la fase acustica. Infatti i profili superiori dello stand sono inclinati di circa 5 gradi per migliorare ulteriormente la resa riducendo le prime riflessioni del pavimento. Il suono è così più coerente con una risposta equilibrata su tutto lo spettro delle frequenze. I bassi e le voci risultano ben controllati e riprodotti in maniera nitida senza distorsioni. I driver però possono essere nascosti da una grande griglia in tessuto acustico ad aggancio magnetico inclusa all'interno della confezione. Questa soluzione ha il vantaggio di non avere viti o fori sul baffle frontale e questo è sinonimo di grande cura nei dettagli e sinonimo di grande piacevolezza estetica. La griglia è appositamente studiata per non avere alcun impatto sulla resa sonora ma personalmente preferisco decisamente svelare i driver e godermi il loro movimento durante la riproduzione. Il bass reflex come dicevamo è posizionato sul baffle frontale come molti monitor pro consentendo maggiore libertà di posizionamento all'interno degli ambienti anche addossando la parte posteriore direttamente addosso alle pareti. Ovviamente all'interno della confezione troviamo anche la spugna bass damper da inserire eventualmente nel condotto per attenuare le basse frequenze utile magari in ambienti di piccole dimensioni che sono maggiormente interessati da questo tipo di problemi. Guardando questi diffusori ci vengono in mente molti altri modelli simili probabilmente molto più famosi ma queste lips on sono profondamente diverse e il loro suono è decisamente più moderno ed equilibrato. Bassi generosi e profondi gamma media dettagliata e un carattere estremamente morbido e raffinato alle alte frequenze questi diffusori hanno veramente una tavolozza armonica davvero ampia sono in grado di riprodurre molti dettagli dalle registrazioni. Quello che offrono è un'ottima resa a tutti i livelli di volume forse perché in ellipson sanno bene che chi opta per questi diffusori ama divertirsi senza badare i vicini. La gamma bassa è davvero ben presente e la grinta non manca. Ascoltando miti senza tempo come Pink Floyd, Led Zeppelin, The Kiss ci lasciamo sicuramente emozionare dai loro riff e dalle loro coinvolgenti dinamiche. Ma se siete alla ricerca di un bel punch beh potreste sicuramente optare per le XLS 15 che hanno decisamente una potenza di fuoco superiore grazie ad un driver da 30 centimetri. Ma non è solo questione di bassi, in questo modello chiamiamolo compatto l'equilibrio tonale tra i vari registri è veramente straordinario. La chitarra elettrica di Gilmour nel brano Time fa venire veramente la pelle d'oca. Viene riprodotta con grande maestria e senza un briciolo di aggressività. Il carattere di questo diffusore restituisce una sensazione di esperienza live davvero immersiva, un po' come essere lì a bordo palco. Tra l'altro lo sapevate che l'introduzione di Time, il ticchettio di orologi a cui si aggiungono poi altri suoni come sveglie e pendoli, è frutto della capacità creativa del tecnico audio che lavorò alla realizzazione del disco Alan Parsons, il quale aveva registrato tutti questi suoni in un negozio di antiquariato. L'immagine sonora nelle XLS11 è ben rappresentata, ma il suo grande punto di forza è sicuramente la capacità di restituire anche i più piccoli contrasti microdinamici. La gamma media è ben riprodotta, coerente e dettagliata e questo li rende un'ottima scelta, forse insolita, come diffusori frontali in un sistema home cinema. Forse un difetto ce l'hanno, sono abbastanza direttivi, suonano decisamente meglio nel cosiddetto sweet spot, la poltrona del papa al centro della scena, anche se calibrando bene il posizionamento, non troppo inclinato diciamo verso l'interno, si riesce ad avere comunque un fronte sonoro abbastanza uniforme. Riescono a creare un ottimo palcoscenico ampio e tridimensionale, restituendo molto bene la sensazione del concerto live. Beh, che dire, sono diffusori da poltrona, pipa, whisky e cioccolato fondente, offrono un sound davvero piacevole e naturale e gli amanti del suono caldo sicuramente saranno in grado di emozionarsi abbinando magari un buon amplificatore valvolare. Io intanto mi accontento del mio sgabello e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Alessandro e da Tutto Lifehack Lab, buona musica!